Ciao amici, è Revotech a tutti! Abbiamo provato l'ultimo uscito di casa Dream, il DreamBot LD CS Pro, un lavapavimenti che forse potremmo definire definitivo? Sì, forse, ma questo lo vediamo subito dopo la sigla, ma prima venite a visitare il nostro blog ceotech.it, il blog di tecnologia più figo che ci sia, per leggere tutte le nostre recensioni scritte e non perdervi nessuna notizia del mondo tech. Iscrivetevi al canale, likeate a Bestia e condividete i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche, non vi dimenticate! Subito dopo la sigla vi facciamo la recensione del nuovo DreamBot L10S Pro. Una delle caratteristiche più importanti di questo nuovo lavapavimenti è senz'altro la presenza dei due mop rotanti dedicati per la pulizia profonda, anche delle macchie più ostinate, perché generano una forza pulente di tutto rispetto. A proposito di questo abbiamo anche una elevata potenza di aspirazione, ma ci torneremo dopo, e un ottimo sistema di mappatura della casa, anche multipiano. Abbiamo la possibilità dell'opzione di pulizia profonda con i mop rotanti, ma senza la problematica di spazio, con una specifica comunque da top di gamma. Questo prodotto l'abbiamo provato per alcune settimane e possiamo sicuramente dire che è uno dei migliori lavapavimenti in circolazione. Dream L10S Pro ha tutte le carte regola per essere considerato, come dicevamo, uno dei migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti sul mercato. L'azione dei mop rotanti infatti offre risultati di molto superiori rispetto ai modelli tradizionali, che invece si limitano a passare con un panno umido sul pavimento in modalità strisciamento. Invece qua abbiamo proprio un'azione rotante che aiuta moltissimo nella pulizia. In aggiunta, questo robot si distingue per l'elevata potenza di aspirazione e un ottimo sistema di mappatura e funzionalità avanzate. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo prodotto, abbiamo un tempo di ricarica della batteria di circa 6 ore, una potenza massima di aspirazione di 5300 PA, un contenitore della polvere di 450 millilitri di capacità e una capacità del serbatoio dell'acqua da 190 millilitri. La batteria è una 5200 mAh. L10S Pro non si caratterizza solo per i mop rotanti, infatti abbiamo anche una delle maggiori potenze di aspirazione sul mercato, caratteristiche che rendono questo modello uno dei più interessanti usciti ultimamente. La mappatura e la navigazione è affidata alla classica torretta LiDAR, coadiuvata da una telecamera frontale che serve al riconoscimento puntuale e preciso degli ostacoli. La confezione di vendita contiene il robot aspirapolvere e lavapavimenti, una spazzola laterale, due mop di lavaggio, due piastre di supporto per i mop e la stazione di ricarica con il suo cavo. Il design di DreamBot L10S Pro è elegante, è abbastanza minimal, con una scocca color antracite che favorisce un ottimo touch and feel. Sul lato superiore trova spazio una torretta LiDAR e subito sotto sono presenti i pulsanti fisici. Power, pulizia, spot e ritorno alla base. Sotto questa copertura magnetica in plastica, molto furba l'idea, trovano spazio il contenitore della polvere da 450 millilitri, quello per l'acqua da 190 millilitri. Accanto a queste è collocata anche una piccola spazzola per la manutenzione ordinaria del robot con anche una specie di cutterino per tagliare i fili che potrebbero aggrovigliarsi nella spazzola centrale. Sul lato inferiore sono posizionati gli attacchi per due mop rotanti con attacco magnetico e naturalmente la spazzola principale che è mista a gomma, setola e design anti-grovigli e quella laterale. Le ruote sono ben realizzate con la giusta durezza e altezza rispetto al pavimento in grado di superare ostacoli fino a due centimetri. Prontalmente possiamo notare la telecamera iPrecision 3D deputata alla scansione dell'ambiente e al riconoscimento degli ostacoli, tipo quella che avevamo visto sull'Ecovax, anche se qui non abbiamo una vera e propria telecamera che funge da monitoraggio anche dell'ambiente circostante, ma serve soprattutto per mappare e evitare gli ostacoli. Una volta configurato tramite l'app Dream Home, il processo richiederà pochi secondi, si può anche utilizzare l'app Xiaomi Home, io ho utilizzato quest'ultima scansionando il codice QR, il robot sarà pronto per il primo ciclo di pulizia oppure di sola mappatura. Questa, grazie all'azione del sistema LiDAR, è estremamente precisa, così come il riconoscimento e l'aggiramento degli ostacoli, come dicevamo prima. Dall'app possiamo scegliere fra due modalità distinte di funzionamento, ovvero solo aspirazione oppure lavaggio più aspirazione contemporanea. In aggiunta possiamo scegliere fra quattro differenti livelli di potenza di aspirazione e tre per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua. Nella nostra prova abbiamo impostato l'erogazione della potenza e dell'acqua ai livelli medi, quelli che si usano, diciamo, nella maggior parte dei casi. Il robot ha dimostrato una grande efficacia nel rimuovere sia elementi come briciole che materiali più sottili come ad esempio caffè, farina, zucchero, sabbia, polvere. In aggiunta il DCS Pro è in grado di aspirare agevolmente anche capelli e peli di animale e infatti abbiamo trovato il nostro serbatoio della polvere piena zeppa di peli di gatto. Ebbene sì, abbiamo un gatto in casa e ne perde ovunque. Ma naturalmente la cosa più importante viene eseguita dai due MOP che grazie alla rotazione e alla perfetta aderenza al pavimento rimuovono anche le macchie più difficili con apparente semplicità. In aggiunta il robot è dotato anche della funzione di riconoscimento automatico dei tappeti che incrementa la potenza di aspirazione al massimo nel momento in cui le rileva e solleva di 7 mm le spazzole per evitare il loro contatto diretto con la superficie del tappeto. Quindi non dovrete nemmeno rimuoverle manualmente. Un aspetto che ci ha sicuramente sorpreso in modo positivo è senz'altro la silenziosità anche alla massima potenza, uno dei più silenziosi che abbiamo provato in assoluto. Non manca infine la modalità spot che permette di pulire l'aria circostante al robot con una semplice pressione del tasto, utile per esempio quando si sporca una zona specifica della propria casa. Veniamo all'autonomia. La batteria integrata nel Dream LD CS Pro è la stessa di altri robot Dream con una capacità di 5200 mAh. Questa ci permette di completare senza fatica le pulizie per una casa anche di grandi dimensioni. Autonomia residua di circa il 30% con un appartamento di circa 100 metri quadrati alla fine del processo di pulizia. Naturalmente in caso di esaurimento della batteria il robot torna alla propria base per ricaricarsi e ripartire in un secondo momento esattamente dal punto in cui si era interrotto. L'app Dream Home è lo strumento che ci permette di effettuare la configurazione iniziale del robot e la successiva gestione. Oppure l'app Xiaomi Home, visto che Dream è comunque un brand, è un sottobrand di Xiaomi. Perciò potete usare tranquillamente, se siete già loggati con altri dispositivi, l'app Xiaomi Home per aggiungere altri device per quanto riguarda il controllo della domotica casalinga a quelli che avete già aggiunto nella vostra app. Dall'app possiamo infatti personalizzare una serie di impostazioni. Possiamo selezionare il livello di potenza e derogazione dell'acqua. Possiamo gestire le mappe, anche multipiano, nel caso in cui abbiate più di un piano a disposizione. Creare muri e barriere virtuali, impostare una sequenza di pulizia personalizzata, attivare o disattivare la funzione di riconoscimento dei tappeti. E, come detto, anche se non dispone di questa base con lavaggio automatico delle spazzole come il fratello maggiore L10S Ultra, che costa il doppio, quindi più di 1000€, offre specifiche di primo livello e i moppe rotanti che migliorano sensibilmente la qualità del lavaggio. Dunque, complessivamente, ci troviamo davanti a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il prezzo di questo Dream L10S Pro è di 599€. In questo momento lo trovate a 567€ con il 5% di sconto. Metteremo il link in descrizione e, se avremo un coupon o eventualmente un'altra promo disponibile, non mancheremo di comunicarvela sia sul nostro gruppo che in descrizione, aggiornando il link e l'offerta sotto al video. Perciò, mi raccomando, non vi perdete i nostri video, seguiteci anche nelle nostre dirette perché vi aggiorneremo su questa e tante altre offerte. Il prodotto vale la pena di essere acquistato? Sì, è uno dei migliori lavapavimenti sul mercato, vi fa risparmiare perché non ha la base ingombrante di ricarica di autolavaggio, eccetera. Sì, è una comodità in più da un certo punto di vista, ma è anche un ingombro che non tutti si possono permettere. Come abbiamo detto, ha tutte le caratteristiche per essere considerato uno dei migliori robot aspirapolvere sul mercato. I risultati della pulizia sono assolutamente eccellenti. Detto questo, salutiamo tutti gli amici malati di smartphone, di smartwatch e tutto il loro network su Telegram. Venite a trovarci anche sul nostro gruppo Revotech Group, sempre su Telegram, la community si allarga grazie a voi che ci sostenete. Likeate a Bestia, attivate la campanella delle notifiche, iscrivetevi al canale, ma soprattutto fate iscrivere i vostri amici e condividete i nostri contenuti per crescere tutti insieme. Mi raccomando, intanto buone feste a tutti, riposatevi, tanta serenità e tanta felicità per un 2023 con i controcoglioni. Venite anche sul nostro blog ceotech.it, il blog di tecnologia più faigo che ci sia. Un salutone da Pasqui e Revotech a tutti. Ciao!